Cari concittadini, 70 anni fa, il 9 maggio del 1950, Robert Schumann annuncia l'impensabile alla stampa, il progetto di riconciliazione fra Francia e Germania. Pensate, soltanto cinque anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, paesi che si erano combattuti decidevano di collaborare insieme. Rispondendo alla domanda di un giornalista fu lo stesso Schumann a definire quella scelta un salto nell'ignoto. Ed invece è stata la scelta più coraggiosa e lungimirante che abbia mai fatto la politica negli ultimi 70 anni. Perché da quel salto nell'ignoto nascerà l'Unione Europea. Cosa ci insegna oggi la dichiarazione Schumann? Una cosa molto importante per noi oggi, che la politica guidata dall'interesse comune e dal coraggio può agire per migliorare e cambiare la realtà. Ed oggi tutta l'Europa ha bisogno proprio di questo. Noi sapremo onorare Schumann e i valori europei, i nostri fondatori, se sapremo trovare lo stesso coraggio e la stessa ambizione. Non usciremo da questa crisi tornando alle vecchie ingiustizie o ai vecchi modelli. Ne usciremo se cambieremo in meglio la vita di tutti. Ne usciremo se l'Europa sarà in grado di dimostrare concretamente che è capace di proteggere i suoi cittadini. Solo così quei valori di libertà, giustizia, diritti, uguaglianza che fondarono l'Europa diventeranno vivi. Perché faranno parte ogni giorno della vita quotidiana di ogni donna e di ogni uomo europeo. La politica è utile quando è coraggiosa. E quando è coraggiosa può cambiare le cose, addirittura può cambiare il mondo. Grazie a Schumann per la lezione che ci ha dato. Buon 9 maggio a tutti e naturalmente viva l'Europa!